Ciao a tutti, oggi prepareremo la vellutata di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca tagliata a pezzetti, patate tagliate a pezzetti, acqua da do bimbi, olio, scalogno, ricotta fresca, latte, semi di zucca, basilico, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo dritare per 5 secondi a velocità 7. Li uniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo adesso la zucca, le patate, il dado, il pepe, la noce moscata, il sale e l'acqua. E facciamo cuocere per 30 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso frulliamo la nostra vellutata per 15 secondi a velocità 6. La vellutata è pronta. Aggiungiamo adesso la ricotta, un po' di latte e un po' di latte ed amalgamiamo per 20 secondi a velocità 3. La vellutata è pronta. Se si volesse una vellutata un po' più densa si può far cuocere altri 5 minuti a temperatura varoma. vellutata di zucca. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!